Vi presentiamo Total Crunch, un allenamento fitness completo in una sola macchina. Total Crunch è la chiave per raggiungere tutti i vostri obiettivi di fitness. Se desiderate un allenamento efficace dal punto di vista fisico e di tempo, Total Crunch fa per voi. Il segreto è che con Total Crunch allenate tutto il vostro corpo, i polpacci, il tronco, la schiena e tutte le braccia e il petto in un unico movimento completo e continuo. Il movimento energico ed efficace crea in generale risultati migliori e lo fate nel comfort di casa vostra. Se volete un ottimo allenamento che sia conveniente, efficace e veloce, allora Total Crunch fa per voi. Total Crunch è facile e veloce, funziona, lo adoro. Quindi non perdete l'occasione di fare un allenamento completo nella comodità di casa vostra con la fantastica tecnologia dell'originale Total Crunch. Sì, esatto! Non aspettate, chiamate ora per informazioni su Total Crunch, l'attrezzo che ha rivoluzionato il modo di allenarsi nel comfort di casa. Efficiente, versatile e conveniente, alla portata di tutti. Questo è l'originale Total Crunch. In omaggio con il vostro Total Crunch, il fantastico Smart Fitness, l'elettrostimolatore completo che vi aiuta a rafforzare e migliorare il vostro allenamento per un corpo ancora più definito. Chiamate per informazioni su Total Crunch, l'attrezzo che conta milioni di clienti soddisfatti in tutto il mondo. In omaggio Smart Fitness, l'elettrostimolatore intelligente che ti aiuta ad ottenere il massimo dal tuo allenamento. Chiamate per informazioni o andate sul sito ultimiarrivi.com